Eccovi qui e benvenuti sul mio canale. L'argomento di oggi racconta di amori immaginari, divorzi e tradimenti delle copie della serie turca Adin Farak o My Name is Farak nella vita reale, per cui oggi vi svelo chi sono queste copie lontane dai riflettori delle telecamere. Ma come al solito, prima di iniziare vi ricordo di regalarmi il vostro like al video e di iscrivervi al canale. Gonul Kosaner, il cui nome vero è Deryat Pinarazk, è con lei che dà vita a questo fantastico personaggio affascinante e giovane donna che è diventata l'unica amica di Farak e che le dà una mano per prendersi cura del piccolo Kerimsak durante la sua assenza per il lavoro. Riguardo alla sua vita sentimentale, possiamo dire che l'attrice attualmente è singola, anche se pensiamo che riesca a tenere la cosa ben riservata e che un padre lo abbia, ma lei dice che non ha intenzione di rivelare nessuna relazione amorosa da quando è iniziato a lavorare come attrice, da quando aveva cioè solo 15 anni. Mehmet Kosaner, interpretato da Firat Danis, è colui che dà vita al personaggio di Mehmet che nella serie diventa il nemico principale di Tahir. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, dobbiamo dire che Firat è stato sposato per ben due volte e con il suo secondo matrimonio ha sposato l'attrice Kubra Danis nel 2014. La loro relazione si è conclusa nel 2020, nonostante fosse considerato uno dei matrimoni più solidi. Il motivo non si conosce, sappiamo soltanto che si sono divorziati da un momento all'altro. I due hanno anche una figlia che vedono regolarmente entrambi, passando del tempo insieme. Ultimamente Firat è stato paparazzato al fianco di una bella donna, che secondo i media turchi sarebbe una pianista e nonostante siano stati intervistati non hanno confermato la loro relazione. Demet Olzemir, che dà vita al personaggio protagonista di Firat, l'unica testimone di un crimine che l'ha coinvolta ingiustamente con la mafia che metterà a rischio suo piccolo Kerim, è senza dubbio una delle attrici più note in Turchia. Conosciamo tutti la sua storia controversa con Jeanne Yaman, iniziata sul set di Daydreamer, finito però solo dopo poco tempo. Infatti successivamente Demet ha intrapreso una relazione con il cantante turco August Hancock. La loro relazione è iniziata a novembre del 2020 e dopo due anni la coppia ha deciso di sposarsi, precisamente nell'agosto del 2022. Questo è stato uno dei matrimoni più sognati del 2022 e soprattutto costosi per il denaro speso in ogni dettaglio, dalle auto agli addobbi floreali e soprattutto per i tre abiti che Demet ha utilizzato e che hanno attirato l'attenzione di tutti, compresa quella delle critiche oltre che degli apprezzamenti. Attualmente, a meno di un anno di matrimonio, circa una settimana fa è scoppiata la notizia di una possibile rottura tra Demet e suo marito. Pare che stiano attraversando una forte crisi matrimoniale, tanto che si vociferava che Demet avesse abbandonato addirittura la loro casa e che successivamente non avesse più partecipato ai vari eventi insieme a lui. Infatti l'11 aprile Augustin ha partecipato ad un evento senza la presenza di Demet e in un'intervista aveva dichiarato che l'attrice era impegnata per le riprese sul set, ma i media hanno anche notato che l'attore non portava la fede e Augustin ha affermato di non averla mai portato per una questione di comodità. Tuttavia, anche Demet o Zemir tramite i social ha dichiarato false le voci della loro presunta rottura e inoltre ha affermato di essere ammareggiata del fatto che nonostante la Turchia senta ancora le conseguenze del terramoto, l'unico interesse sia quello di speculare su questioni come questo. Quello che sappiamo è che i due non sono stati visti più insieme da quando è scoppiata la bomba della notizia e la stampa turca assicura che il loro matrimonio non è sereno e che i due hanno anche già fissato la data per il divorzio e che nessuno dei due prenderà nulla dall'altro. Tahir è interpretato dal grande Enjin Akurek. Nella serie di Adin Farak è un uomo sfortunato, braccio destro di Ali Galipa Kinci, uno degli uomini più potenti e temuti della Turchia. Riguardo alla sua vita sentimentale possiamo dire che cerca sempre di mantenere una certa riservatezza sull'argomento. Anche se sappiamo che è stato con diverse donne, non è mai stato visto in una relazione ufficiale, l'unica donna che ha rivelò di essere relazionata con lui è stata Tuvana Turkay che poco dopo però Enjin lasciò perché lui tiene molta la riservatezza della sua vita amorosa. Nel novembre del 2022 poi l'attore è stato fotografato in effusioni d'amore con la grande Tuba Bukulstum con la quale ha recitato anche recentemente nella Figlia dell'Ambasciatore, ma soprattutto nel romanzo Cara, Parax, Ask dove hanno dato vita a Elif e Omar rubando i nostri cuori. Da quel momento sono diventati una coppia anche al di fuori del set. I paparazzi li hanno beccati mentre erano a Parigi a godersi una fine settimana con gli amici ma nelle foto ci sono le figlie di Tuba, Maya e Toprax, come se fossero una grande famiglia. È saltata all'occhio anche un'altra immagine, quella di Enjin che al posto viene legata alla sciarpa di Tuba. Queste foto hanno suscitato dei vociferi che hanno affermato della loro relazione, tuttavia l'attore ha dichiarato che sono solo amici, d'altronde lo abbiamo detto poc'anzi. Enjin è estremamente riservato sulla sua vita privata e anche se fossero davvero fidanzati non lo rivelerebbe mai, né lui né lei, dal momento che ciò metterebbe a rischio il loro rapporto. Vera Akinci, interpretata da Senan Cara, la moglie di Aliga Lipa Akinci, è madre di Akan Akinci, è felicemente sposata dal 2007 con l'attore Serkat Tutu Muller e ha una figlia frutto del loro amore. Il nome è Denise. Il loro matrimonio ormai dura da 15 anni ed è uno di quei rapporti che tutti sogniamo perché i due attori non mancano mai di scambiarsi dolci messaggi d'amore e infatti lo possiamo notare in alcune pubblicazioni sui loro profili social. Kana Akinci, interpretato dal giovane attore Oktay Kubuk, nella serie di L'unico figlio della famiglia Akinci e che vive la gelosia nei confronti di Tahir riguardo la sua vita privata, amorosa. Sappiamo che Oktay è stato coinvolto in uno scandalo amoroso. Si tratta del 2022, quando ha avuto una relazione con l'attrice. Dopo esser diventati amici, il loro rapporto si era trasformato in amore, costruendo una relazione che però durò poco, fino a quando decisero di lasciarsi. Il motivo non si conosceva, fino a quando Aar dichiarò alla stampa che Oktay è la sua migliore amica, l'attrice Neil Keser, con la quale aveva anche lavorato alla stessa serie, dove si erano conosciuti, aveva intrapreso una relazione con lei e che questo era il motivo della loro rottura, dichiarazione che ha senza dubbio suscitato scandalo tra i media turchi. Periyat Kozaner, interpretata dall'Ale Bazar, nella serie è la madre di Gunul Kozaner. Riguardo alla sua vita privata, amorosa, abbiamo dire che non si sa molto, visto che anche lei mantiene molto riservate le sue relazioni, ma sappiamo che l'attrice è sposata già da qualche tempo con il regista teatrale Kemal Bazar e ha anche un figlio di nome Savas, nato nel 1996. Anche lui, come i suoi genitori, sta facendo la carriera nel mondo dello spettacolo Istanbul e attualmente la famiglia si sta godendo la sua fama, soprattutto in ambito musicale. Ali Galipa Kinci, interpretato da Mustafa Aibikran, nella serie è l'uomo più temuto di Istanbul, giunto per conquistare il suo impero, dedicando tutto il suo tempo agli affari loschi. Riguardo alla vita sentimentale privata dell'attore, sappiamo che è sposato dal 1993 con l'attrice Ovul Avikirak e che per tanti anni sono stati insegnanti nel loro Turchia. Nel 2015 è nato il loro primo figlio, nonostante la sua età avanzata non si è lasciato abbattere dalle critiche e ha vissuto appiene felicemente la sua paternità rispondendo alle critiche mediante una foto che ha caricato sui suoi profili, dove presenta l'arrivo di suo figlio. Spesso l'attore è solito caricare foto della sua famiglia, dimostrando di essere un buon padre e facendo trappellare il fatto di non fargli mancare nulla e cercare di farlo crescere serenamente trascorrendo del tempo di qualità insieme a lui e dimostrando anche che l'età non conta e che la forza per prendersi cura di un tuo caro viene sempre fuori. Siamo giunti al termine di questo video, vi abbiamo raccontato tutte le copie nella vita reale degli attori principali della serie turca Adim Farak. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like ed iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre serie e vostre serie turche preferite e sui vostri attori turchi che seguite maggiormente. Se vi va condividetelo anche con i vostri amici appassionati come voi e fateci sapere il vostro pensiero. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.